Torniamo secondo l'Italia di adesso per quanto riguarda l'informazione e parliamo di politica interna, giusto per rimanere in tema. Ti volevo chiedere che cosa ne pensi della manovra finanziaria? Allora la manovra finanziaria è secondo me sostanzialmente un insieme di alcune necessità di ordine generale legate al fatto che la Banca Centrale Europea ci ha mandato l'avviso di sfratto, quello penso sia stato vero, a un certo punto non potevamo fare diversamente. Quello che mi inquieta da un certo punto di vista è l'adozione di alcune scelte politiche che nulla avevano a che vedere con la manovra, scelte che sono andate a intaccare probabilmente alcuni meccanismi dello Stato diritto come appunto il famoso articolo 8 su le contrattazioni collettive del lavoro, dinamiche che dal punto di vista meramente finanziario ed economico non vanno assolutamente ad incidere sul saldo o magari appunto mentre alcune altre dinamiche come la regolazione finanziaria, imposte patrimoniali sui ricchi che sono state delle cose proposte mai attuate, non sono state mai messe in campo. Le scelte fatte invece vanno a incidere molto marginalmente sulla manovra finanziaria dal punto di vista economico e quindi il sospetto legittimo è che in realtà la manovra ok era una necessità ma nell'occasione hanno voluto dare un po' un colpo di grazia a alcuni diritti fondamentali dei lavoratori soprattutto delle fasce più deboli anche perché appunto un italiano sotto ricatto è più debole, ha meno capacità di andare per strada o comunque di far politica, di impegnarsi nella vita associativa, di impegnarsi a informarsi. Una persona che deve vivere, deve lavorare per vivere può pensare solamente a lavorare, ha meno tempo per informarsi, è funzionale, ha una gestione del potere dalla parte della maggioranza che ovviamente perdendo consensi non ha alcun interesse a far scoprire la verità sul governo di questi tre anni e l'italiano. Quindi il mio parere è negativo soprattutto da questo punto di vista perché non ho motivo di non credere che l'Italia aveva bisogno di fare questa manovra per evitare di uscire dall'euro. Non capisco l'accanimento contro le fasce più deboli in questo momento, l'accanimento appunto quasi sociologico che ripeto non trovo a me è una risposta convincente. Quale pensi sarà l'esito di questo periodo burrasposo dal punto di vista economico sia per l'Italia che per l'Europa? Allora io sono pessimista sulla situazione attuale dal punto di vista delle regole attuali, nel senso che non capisco come la Grecia si possa salvare francamente ed è una dinamica che tra l'altro vive da diversi mesi, anche da prima dalla crisi di metà luglio, di agosto. La Grecia sono mesi che è entrato in una spirale, probabilmente è entrata anche l'Italia, per cui si parte da una situazione di altissimo debito pubblico che dobbiamo colmare l'Europa a delle regole. Il debito pubblico va insieme a una scarsa crescita, per cui la crescita non riesce a colmare il debito. Quindi per andare a intervenire sul debito bisogna fare nuove tasse e nuovi tagli. Queste nuove tasse e nuovi tagli deprimono ulteriormente la crescita, quindi il buco cresce e quindi si entra in un circolo vizioso da cui non si esce più. Quindi il soffocamento dei consumi, il soffocamento della crescita, il debito aumenta, tagli e tasse, si soffocano i consumi, la crescita si blocca e così via. Questo loop in Grecia è già vivo da 2-3 anni oramai e non ha avuto nessuna soluzione, nonostante siano stati i fondi salvastati, gli aiuti dell'Europa, i bond, le riunioni, l'assicurazione. Nel 2011 il PIL della Grecia andrà a meno 5-5%, cioè la morte di una nazione, per cui sarà inevitabile per la Grecia uscire dall'Euro. A quel punto oppure far fallire l'Europa, o si fallisce di tutto da tutti. A quel punto mi chiedo per quale motivo l'Italia dovrebbe uscire dalla dinamica in cui la Grecia non è stata in grado di salvarsi, soprattutto in una situazione politica di stasi, di bambini, blocco. A me colpisce particolarmente, dal punto di vista della real politica è comprensibile, dal punto di vista economico non lo è affatto. Il fatto che tra due o tre giorni interna italiana al netto delle intercettazioni stia preoccupandosi esclusivamente del voto di domani su Marco Milanese, sul suo arresto oppure no. Il governo, il PD e la Lega sono impegnati esclusivamente nel fare dichiarazioni più o meno minacciose alla controparte, che fa parte della stessa maggioranza, sul destino di questo parlamentare. Mentre il frattempo la federale, se 20 minuti fa, ha detto che le stime della crescita mondiale sono a ribasso. Lo spread è arrivato a 400, potrei stare a dire qui indicatore economico, però noi stiamo a pensare all'arresto di Milanese, che è una scelta cruciale ovviamente per la politica interna, perché se Milanese sarà arrestato vuol dire che gli equilibri tra PD e la Lega sono diversi, che Tremonti in qualche modo è considerato colpevole dalla stessa maggioranza e così via. Abbiamo quindi una spirale in cui siamo finiti e sono d'accordo con chi promuove come Sergio Romano sul Corriere della Sera, promosso, ha chiesto all'Italia di fare come la Spagna, cioè Zapatero una volta che ha realizzato che non poteva essere lui a portare la Spagna fuori dalla situazione di crisi, ha rimesso il suo mandato e ha chiesto nuove elezioni, che è una soluzione ragionevole per provare a invertire questo ciclo che ogni giorno che passa è sempre più faticoso da mettere a posto. Sono in effetti degli equilibri molto precari quelli tra PD e la Lega in questi tempi, soprattutto per le cose che hai citato. Secondo te quale sarà il destino di questo governo? Allora, secondo me, io lancio una provocazione perché è una cosa che mi è venuta in mente stamattina. Mi pare, non voglio anticipare l'esito, però mi è parso di capire che le 500.000 firme per il referendum ci sono o ci saranno, il che vuol dire che a primavera 2012 ci sarà un referendum sulla legge elettorale. A questo punto, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si riesce, dato che ritengo abbastanza difficile una vittoria del centro-restre alle prossime elezioni. Per quale motivo PD e la Lega dovrebbero decidere di andare a votare nel 2013 con una legge elettorale senza tutele, in cui i cittadini decidono chi va in Parlamento, rischiando di unire al primo bagno di sangue quello appunto della partita del consenso, un secondo bagno di sangue, cioè il fatto che la classe dirigente venga sconvolta delle elezioni, comincio a pensare che tutto sommato sia più accettabile a perdere dignitosamente nel 2012 con questa legge elettorale e fare in modo che tutto sommato le segreterie dei partiti si decidano, si scelgano quali sono le persone del PDL della Lega che devono stare in Parlamento e così quella classe dirigente comunque che ha perso, ha fallito in questi tre anni, avrebbe altri cinque anni di vita e magari l'opportunità, chissà, fra cinque anni di ripresentarsi alle elezioni con una nuova faccia, una nuova verginità e provare a vincere le elezioni. Quindi secondo me sta subentrando questo ragionamento, sta subentrando una riflessione sul ma chi ce lo fa fare di andare fino a fine mandato, magari peggiorare ulteriormente la situazione economica italiana e poi manco riuscirà a essere eletti in Parlamento e andiamo a perdere le elezioni, almeno rimaniamo in Parlamento e poi vediamo se ce la facciamo fra due o tre anni, magari la sinistra cade alla sola e così via. Senti, non pensi che anche blogger, lo chiamo blogger ma non trovo un altro termine adatto per definirlo, quando si parlava dei privilegi della casta, di quel famoso Spider Truman, non credi che sia di fatto il sintomo di una nazione che ormai si è stancata di questo modo di fare politica? Sì, è una nazione che si è stancata, ma è anche una nazione a cui manca il senso di comunità per certi versi. È una nazione che non ha avuto la forza di costruire un movimento come quello degli indignati in Spagna, perché secondo me c'è da un lato una dinamica in cui chi è senza peccato scagli la prima pietra, per cui magari si fa la lotta ai privilegi, ma magari se il politico ci fa un privilegio noi non lo rifiutiamo. Se si fa la lotta all'evasione ma magari non lo scontrino fiscale nel nostro esercizio commerciale non lo facciamo e quindi con quale faccia andiamo a fare la lotta all'evasione? C'è una dinamica, un frastagliamento, una divisione in modo esasperante della società, per cui ognuno, anche in condizioni di povertà crescente, di difficoltà crescente, balla semplicemente al proprio interesse personale e attacca il privilegio dell'altro quando il privilegio non lo tocca in prima persona. quindi c'è sicuramente una stanchezza esplicita e i dati del consenso di Berlusconi sono chiari, però da un lato non c'è un'offerta politica complessiva soddisfacente, cioè la fiducia dell'opposizione è inferiore alla fiducia della maggioranza in questo momento secondo tutti i dati, la fiducia della maggioranza è intorno al 22%, la fiducia dell'opposizione è sotto il 20%, quindi ci si fida ancora meno dell'opposizione, pur votando l'opposizione quasi per disperazione o inerzia, però non ci si fida comunque. Quindi anche questo manca, manca un'alternativa concreta dal punto di vista politica, una discontinuità netta tale da poter permettere agli italiani di avere fiducia, speranza e anche di scendere in piazza affinché il processo di cambiamento sia più rapido. C'è una paura del dopo Berlusconi, una paura di finire una specie di vuoto che sia ancora peggio di questa inerzia assurda di questi mesi, perché non è chiaro, non c'è una chiara distinzione e non lo dico io, questa è una frase un po' fatta per certi versi, io la riconosco invece una differenza tra sinistra e dresse in Italia, però è una differenza che bisogna studiare, una differenza che non emerge immediatamente, una differenza che dal punto di vista comunicativo è ben soffocata da televisioni e giornali vicini al governo, è una differenza che bisogna far emergere anche attraverso il web ad esempio, è uno strumento che viene spesso snobbato e utilizzato come riempimento di vuoti ma le lasciate altrove. In questo clima di blocco quasi, di sfiducia generale, scatta il sentimento di indignazione contro il privilegio generico ma non scatta magari l'indignazione contro il privilegio specifico, contro una dinamica del piccolo comune dove noi viviamo, che noi viviamo da tanti anni, che abbiamo sempre visto ma che non abbiamo mai avuto il coraggio di denunciare. C'è quindi da ricostruire prima di tutto un senso di comunità che oggi non c'è più o comunque è molto diluito e limitata di specifiche realtà associative. E dall'altro lato però bisogna anche essere noi, noi stessi un pochino più puliti per poter attaccare lo sporco, perché fin quando rimaniamo analogico del privilegio non saremo mai veramente forti e veramente autorevoli per poter chiedere un cambiamento, ma faremo parte di quel processo di inerzia che contestiamo. Che cosa ne pensi, visto che si parla di frammentazione, che cosa ne pensi della proposta di Bossi per un referendum per separare il nord Italia dal resto? Lo perderebbe, penso questo. Penso che non lo farà mai solamente per questo motivo. A parte che ci sono credo problemi di incostituzionalità e Napolitano ha detto che comunque è una scelta culturalmente fuori dalla storia. Quindi ci sono elementi di tipo storico, elementi di tipo giuridico. Dopodiché, facciamoglielo fare, mi verrebbe da dire sì, facciamoglielo fare io sono certo che lo perderebbe questo referendum. Parla da 20 anni, milioni di persone con i fucili pronti a dimostrare a manifestare per la padania, ma io sono nel parire che se questi sono i dirigenti della Lega Nord, dirigenti che hanno perso più di una volta l'occasione per dare veramente una sterzata d'Italia, credo che non ci siano milioni di persone pronte a scendere in piazza per il senso di responsabilità nei confronti di questa classe politica della Lega che alla fine dopo 17 anni ha malapena messo in campo i decreti attuativi sul federalismo e continua a fare promesse che non riesce a mantenere.